Oltre un quintale e mezzo di droga nascosto in cantina, è la scoperta stupefacente fatta dai carabinieri nel corso di una perquisizione in casa di un quarantenne alla periferia di Andria. Il sequestro è stato eseguito durante una serie di controlli predisposti nelle ultime settimane dei militari del comando provinciale nel territorio dell'Altamurgia e in particolare nella città federiciana. Gli uomini dell'arma si sono presentati presso l'abitazione del quarantenne con alle spalle reati di vario tipo anche in materia di stupefacenti. Dall'appartamento i controlli si sono spostati al piano interrato fino ad una cantinola usata dall'indagato. Qui all'interno di alcune scatole di cartone erano stati sistemati ben 166 panetti di hashish sigillati con del nastro adesivo per un peso complessivo di circa 177 kg. Arrestato in flagranza, l'uomo è stato immediatamente trasferito nel carcere di Trani e accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla luce dell'ingente quantitativo di droga rinvenuto nel corso dell'operazione, i carabinieri stanno effettuando ulteriori accertamenti per risalire al canale di approvvigionamento del carico di hashish destinato, molto probabilmente, a rifornire le piazze di spaccio dell'intera provincia di Barletta-Andreatrani. Una volta suddivisa in dosi e venduta sul mercato degli stupefacenti, la droga avrebbe fruttato non meno di mezzo milione di euro.